registriamo... l'aereo sta cascato tranquillamente dritto così si si così tutto dritto ehi pilota come va? ti ha posto? ehi ma un po' da bene qua entro è morto che cazzo c'è che il cappellino non treppa? eppure tu ma come pure io? eppure tu? ma che devo fa? dove tu andrà? di qua? guarda come moriamo eh, guarda come moriamo subito e non capisco dove... oh goddio dove andrà di qua? si ma non vedo un cazzo è tutto buio non può stare sta zattera, ecco ma come si sale? un po' eeeh giornale come giornale che cazzo è successo? che cazzo è successo? che cazzo è successo? ma scusa dopo c'è sta che giocata questo pezzo non l'hai fatto? si ma minchia l'ho comprato penso un annetto fa ah cioè prima che lo mettessero gratis ah quindi tu non l'hai preso gratis col plus? già ce l'avevi io già ce l'avevo mmm ha pagato 10 euro sta cosa 10 euro sta cosa ah ma se capisci tu gira mmm bello pedro 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 e questo amico mio le fa pedro 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 ma guarda sulla testa c'è l'elica ah 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 tieni premuto date per far godaggio allora eaaah la pagagna devo presa e mo? che hai preso e ho preso la pagagna per andare sull'isola che hai preso? presto cazzi ora mi incastro guarda ora mi incastro anche a parte io lo so già ok deve bene e come arresta funzionamento che cazzo stai a fama assai devo mettere giù cala l'acqua è troppo bassa come cazzo si tirava in qualche modo in qualche modo si tirava si tirava l'hai messa l'ancora l'hai messa? te l'avano fatta mettere? cala l'acqua è troppo bassa per poter calare l'ancora c'era un modo per spingere boh a me se ce la faceva a nuoto un po' d'acqua allora azioni bussola e benda lo prendete tutto o un granchio che questi pungono pedro 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 ocio che ci sono delle stelle marine appuntite grosse appuntite se ci è vissuta a veleni non sappiamo neanche più come cazzo fare la cura perchè non so come cazzo si fa la cura vabbè ma che dobbiamo fare adesso? eeeh dobbiamo trovare gli attrezzi e sopravvivere sull'isola qua sennò ah vedi questi dove sei tu? ti vedo? ok vedi la davanti dove vedo io che c'è tipo dell'acqua che fa delle bolle no? vabbè? ecco devo andare lì sotto, sott'acqua a prendere dell'equipaggiamento però c'è solo tipo degli squadri tu cazzo baci tu ma per me va bene questo cazzo baci tu nooo ma c'è idea che se fa moro che faccio da solo? ma che moro ho messi così strani salve ah pensavo volessi entrare dentro e chiuderti dentro beh era un'idea e aspettiamo maias oddio quanto è grosso sto pesce ma non so è sto nell'acqua ma come c'è poco ammazza quanto è grosso ma che sei scemo ah oggi ho i pesci quelli con col 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 cernia gigante ma attacci tu ma i pesci quelli con le spine che sono i pesci scorpione e sono velenosi ma che sono sti cosi? è fiato è vero che sennò quasi more dov'è che è l'acqua quella che vedevo l'acqua facciato stufa ah basta che abbassi la visuale di qua in giro si che cazzo 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 hai fatto? l'acqua nando c'hai lo squalo dove dove? di dietro da dietro Dov'è? Non lo vedo! C'è la via dietro! È questo qua! E' quella! No, questa è la cemmia gigante, non è mica lo squalo! No! Ma sei sicuro? Guarda è uno squalo! Eh, mi pensa che gli squali... Nando, Nando! Di dietro, di dietro! Guarda, che cazzo è? Lo squalo, dove? Ma fa' quello è uno squalo, dai! No, è la cemmia gigante, se ti avvicini ti dice il nome, va! C'è la mia gigante! Questo che cazzo è? Ah no, questo sei tu! Chi sei un merluzzo? Eeeh, dove volevo trovare questo cazzo di cosa? Dove c'erano le bolle lì, che ti stavano di prima, che ti chiedevano le bolle, ma non lo trovo! Ma fa' una cosa, tu stai in acqua e io vado sull'isola! Fa' una cosa, te stai in acqua e io vado sull'isola che ho troppa paura! Ah, forse... Lo squalo davanti a me c'è! Eh, forse l'ho trovato! Non c'è questo che ci stavo! Eh no, ma questo è uno squalo! Madonna! Aiuto! Dove sono le bolle? Io non le vedo più! Già era te! Ah, allora era questo qua! Eh, ma non c'è niente qua adesso! Penso, è movile! Ma vaffanculo! Tu pio un colpo! E' aumentata il coso della fisica! Qua non c'è un cazzo! Non ho capito che segna qui! Che qui non c'è niente! Non c'è niente! O forse si! A parte che controllo l'ultima volta! Ma come fai a vedere se c'ho fan o se non c'ho fan? Ah, col triangolo! Col triangolo si apre un orologetto tipo lo smartwatch lì e... E poi dopo c'è lui che canta Come sto messo io? Ah, praticamente allora... Se abbatti questi... A parte che puoi salire anche su... Puoi salire anche sopra gli alberi Prendere i noci di cocco senza buttare giù l'albero praticamente Vediamo se riesco a trovare altra roba che fuma No, e lì c'è una barca qua Madonna E subito Ah che sei matto squalo? Oh, uno straccio Madonna, è un cazzo grosso sto straccio Ma faccio buttarlo giù? Cerchio? Ah, se prendi un oggetto e ce l'hai in mano Tenendo premuto il cerchio lo puoi buttare giù a terra Lì davanti abbiamo un'altra isola, abbiamo un botto di isola, abbiamo Che cazzo è? Una nave là in fondo Non penso E non me lo butta il fasso, perchè? E hai tenuto premuto il cerchio? Ah, premuto Eh, sono entrato nella cabina C'è una nave scoperta che lì c'è altra roba e... Non c'è un po' che ci sia qualcosa 지quale MicaVe a presosso squalo Ho fatto il colpo pure a me prima Eaaaaa Lo squalo, e faccio? E da cazzo sta? E quello là? MicaVe faccio lo squalo Porca droina Mi premuto per aprire Eeeeh, sono entrato nella cabina C'è qualcosa da prendere qui? Eeee, oh C'è la cassa Fammi fare una cosa va Io ho... un po' di rifornimenti qua in realtà è tipo di recuperare il cibo cose così la sardina mi ha detto come se fosse la mamma di Giulio non la sardina, c'è la sarda ho trovato una cassa ho trovato ma loro è posato con una qualcosa ok, muovi un attimo cosa c'è dentro per aprire abbiamo il motore di un veicolo una fiocina che è utile per la caccia e parte l'elettrica di un veicolo me faccio un cazzo che cazzo è perché sono ah è appena fatto su da chissà sì, quelle là le lamiere tutto il legno che troviamo a terra possiamo crearci il rifugio praticamente penso che Tete si è cagato sotto per il finto squalo pensa quando incontreremo il caramaro gigante lì si chiese se da spaventarsi proprio veda giù cosa sta? io ho messo tutto vicino adesso qua mhm io no, va bene va bene e che cazzo però sto gioco qui c'è sto tizio che con l'aria non è che ma che sei matto oh una retta ruga dobbiamo colpo età ma che ma che cazzo è cocco prendi, prendi tutto prendi il cocco che cazzo è qua sotto iiii io ma sotto è profondo nero non è profondo blu o profondo rosso profondo nero proprio niente devo vai veloce c'è in ultima navietta da venire la metto nell'inventario ma cosa? il cocco eeehm ma mi guarda oh ho trovato una troccia troccia tavolame eeeh qualcos'altro comunque ah no a mangiarlo no praticamente devi buttarlo a terra romperlo con non mi ricordo adesso come si fa l'accetta devi vedere schiacciando schiacciando una volta il tasto R1 ti fa vedere come come si crea la roba praticamente vediamo un attimo si eccolo qua allora dobbiamo creare ecco attrezzo di pietra tu lo devi devi picchiare la noce di cocco con l'attrezzo di pietra lo lo spelli diciamo e poi puoi bere ecco ora lo puoi raccogliere e poi bere allora mo mi serve un pezzo di eeeh e sta a fare sta a fare il killer e se ti va e che cazzo è che è qua una tuna no ma sta qua non so se eh lo so mi serve il legno per fare i la è tutto qua dove non ti vedo più ah ecchiati ah ma è il tavolame questo non è il legno ah ma è il legno beh vedo devo abbassare la mia temperatura si devi andare dentro dentro l'acqua perché o dentro l'acqua o dentro il container apri il container e ti ci butti dentro perché siamo sotto il sole praticamente allora un attimino una cosa ecco ci sto capendo tantissimo palma giovane ecco la palma giovane mi serve perché pensi era vecchia la palma e non era giovane e si che erano incazzi la palma giovane serve per fare la legatura la legatura mi serve per fare il coltello raffinato praticamente devo fare tu figlio il coltello raffinato ed è anche succhiatore ma dentro l'acqua ho abbassato la temperatura si è famotica la temperatura si quando apri poi di nuovo l'orologio ma anche se ti metti all'ombra dovrebbe andare bene pochettino non tantissimo però allora facciamo la legatura ho creato il coltello devo creare non c'è dove sta non lo vedi eccolo provate si più cose fai e più più ti si alza il fatto della fisica cioè le statistiche insomma praticamente e dov'è che hai lasciato tutto l'hai lasciato spai che prende e porta anche io un po' di roba di là qua c'era la cassa ecco ah lo straccio ci serve raccogliamo la cassa di legno eh punto mettiti un po' all'ombra pedro 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 carmenina dice se ti sentase ok allora Allora, andiamo a buttare questo, questo, il legno. Sull'orologio, no? Il cuore è la vita, giusto? Quello sotto che cos'è? Che mi dai le barre? Quello sotto è il cibo, poi c'è l'acqua e poi c'è il livello di temperatura. E se c'era tutta bassa la temperatura? Devo? Eh beh, è buono, no, no, devi abbassare la temperatura, sì, quello sì. Ah, infatti me l'ha detto anche a me, c'è mi è uscito scritto che tu lo dicevi e poi devo abbassare la temperatura, così ha fatto. Ah, qua ci sono delle lamiere. Devo fare il mattello perché almeno possiamo fare, diciamo, la casa e ti puoi raffreddare da lì praticamente. Il problema è che non mi fa fare l'accetta, ma mi fa fare il mattello perché siamo bassi con il fatto del... Fuoco da granchio! Fuoco da campo. Questo lo posso creare... Come ho preso il granchio? Ho preso il granchio così poi! Ehi, mi metto mezz'ora per rompere il cibo. Ok. Dov'è che faccio il fuoco? Dove vado? Lo facciamo qua in mezzo? O qua in mezzo facciamo la nostra casa e... O lo facciamo in mezzo all'acqua la casa? Perché va come un desinus. Eh sì, è perché non so dove cazzo fare il coso. Metto qua, va? Qua dovevo lasciare tutta la roba e metto a far fuoco da campo. Pi, 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 pi. E ci c'è... No, no, non c'è il ventanotte. Chi cazzo è che tu hai trovato qua? E chi cazzo è che tu hai trovato qua? E chi cazzo è che tu hai trovato qua? E tu sei entrato dentro l'acqua? Sei entrato. Questo è il vero che cazzo è il vero. E sei entrato dentro l'acqua tu, eh. Non ti vedo più. No, no. È scompasso. È scompasso. Eccolo. Non si vede più il peso. Oh, fossa qua. Oh, fossa qua. Ma siete più un cazzo? Perché devo abbassare un peraduno. Eh, ma mo' si abbassa naturalmente perché c'è... C'è il sole, c'è tutto. Ma piove! Come piove? Ah, vieni. Ma piove. Ah, cazzo. Questo qua serve a livello di manualità 2. Quello lì... Vediamo un attimo. Il fatto della caccia? No, dov'è qua? Eh, questo serve a 3, se no. Poi pia, ma i pesci da lì pia, va. Cintura delle attrezze. Ispeziona che è fuori qui. E che vedi cosa c'è dentro, se non sbaglio. Ah, c'ho lo strascio. Vedi il strasuno, ora mi manca la legatura. E' un passo. Si può vedere l'andare più lontano. E' un po' come funziona sto coso. Ma come si fa? Lo vedo me stesso. E non è che vedo tanti... Ah, ma devo fare lo zoom. Sì, là in fondo c'è qualcos'altro. C'è tipo un vascello. Ma è da arrivare là in fondo. C'è un'isola. Aspetta. C'è un'isola. C'è un'isola. Prendi un attimo il mio binocolo. Prendi un attimo il binocolo qua. Dov'è sto? E qua, qua terra. Qua terra. Ecco, equipaggio, vedi un attimo l'isola, quella che c'ho davanti io. Io ho visto... Se tu vedi bene, sembra che c'è una nave dall'altra parte. Cioè, possiamo prendere... Ci guarda? Ah, fai lo zoom con il tasto per sparare, diciamo. E sembra una nave che c'è dietro, no? Tipo una crociera, no? Ma sembra. Sembra. E... Il coso sta lì, il comune. Come non ne volemo curare il comune. Eh, se no ci andavamo. Ma se uno muore, poi li spawna. Io questo non ho capito. Non lo so. Andiamo a vedere un attimo lì se c'è qualcosa. No. Eh. Che cazzo è qua? C'è un pesce pagliaccio a terra morto. Ho preso! Qua c'è l'è in mano! Non capisco perché c'era un pesce pagliaccio qua. Ma come cazzo... C'è l'ho cortito prima io. Eh, il problema è come togliere questa da qua, mo. Non cala. Orca Dio. Allora. Tieni per muto, parti. Eh, tieni per muto, parti. E lui sta seduto. Ma... 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 Bellissimo. Ma che c'è? Ci sono i pipistrelli? Eh, ho capito. Ma io come faccio ad andare di laser? Non capisco come cazzo. Putta giù. Ah. C'è un problema. C'è... C'è un modo per fare... In modo che sì che... Tu riesci a prendere... Ah, ecco così con L2 e poi la tiri via. È il problema, non cominciare il salto? Mamma. Grazie. Ok. Dove era? Quella dritta? E siamo finiti sempre dentro la... Dentro il coso. Orca Dio. L2. Posso trasportare? Guardalo qua. Guardalo qua. Da che cazzo è? Eh? Blah, 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 blah. Che è? Come è che è? Blah, 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 blah. Ma che è? Dove è che era lì? Sono quella lì? È questa qua davanti? Penso di sì. 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 Ma andiamo là, ci girano e ce ne tirano santo e fa... Blah! Torniamo indietro. Ma io lo squalo ce ne è giocata più per due. Ma io lo squalo se tocca da sotto noi voliamo in avia e ci butta in acqua. Te lo dico già. Ah, l'aero? Eh sì. Ma quindi non porta sfiga perché se voliamo in acqua e ce ne sono quattro siamo morti. intanto lui è lì che sta qua da pure sotto, addostando. Wey. Che cazzo? C'è una balena davanti, abbiamo. E guarda quella lì. Ma alza la coda. 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 Minchia che paura se a me mi esce una pinna davanti e ci fa volare. Ma andò. Guarda, ci chietto. E io sto andando dritto. E sta a mettere ansia. Sì è una nave quella dietro, guarda c'è anche la cabina mola. Vedo tutta la parte quella lì, quella posteriore diciamo. E pensa che ti sto mettendo ansia che questo è, come si chiama, qua almeno c'è della roba che tu puoi guardare sopra perché c'è la terraferma. Perchè qua? Perchè non vedo che buona tratti? Non lo so, non lo so. Ehm, no, poco fa è andato a tratti. Come se mi si fosse fatto il blocco schermato e poi è andato avanti. Minchia perché non hanno messo come da fare Minecraft a facevi i ponti? Facevi i ponti tra le isole, camminavamo e basta. Ma posso accelerare un po' di più? Non posso fare un cazzo. Ecco, qua dove c'è il pennone qua c'è della roba da prendere. Ehm, questa è un'isola un pochettino un po' più... Piccola. Diciamo, c'ha più c'ha più roba diciamo. Penso eh, non lo so. Vedo più alberi. Sì, puoi fare l'accampamento pure qua. Sì, sì, puoi fare l'accampamento dove vuoi. Ma che cazzo è sto rumore? Ma muoviti! Guarda, tu vai dritto! Muoviti! Oddio! Ho sentito! Ho sentito! Ho sentito! Non muovo adesso! Eh sì sì, qua sì! Vabbè fammi proprio toccare la riva perché io non mi fido. Ok. Più di così non va. Quindi ok. Ehi, cazzo, guarda! Minchia, 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 minchia! Che pesa in faccia! Che troia! Allora, vediamo un po' cosa c'è da fa' qua. Più che altro. O c'è sempre la stella marina quella grossa che... A parte che dovrebbe stare soltanto in acqua. Girati, dietro di te. Salve! È mio! Salve! Non so se ti fa male quello, eh! Fa male? Ah, e scappa! Ma non la posso picchiare! C'ho una cosa da legno! È andato in acqua! Si fa mangiare gli squali piuttosto! Guarda, 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 guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Ehi! Oh, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Io c'ho il coltello raffinato! Vediamo un po' se lo posso colpire! È un maiale! È un maiale! Dice che è un maiale! Quello è più giusto a Claudio! Eeeh! Guarda, vai più cazzo! C'è morto! Stai inseguendo! È morto? No, sei sto cazzo! Perché è morto? Quando ho voluto manco più non lo vedo! Non muore! È qua davanti a me! Puttimi pistelli ci sono! Caccia! Leve lappa! Caccia, mandata! Eh sì! Oh, i pistelli! Ah! Che serpente! Ah! 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 È morto adesso! Scuoglia! È schifo! Ma non vedi che serpente ho! Dove serpente? Io sai che non l'ho visto proprio! Ah! Ancora si può scuogliare! Ma sta venendo da me? Sta venendo? Non lo so! Ma io devo ancora bere qualcosa! Ma quanta roba mi fa scuogliare! È un TV! Ah, ecco te! Non so se è venenoso! Penso di sì! Che sta? È qui? Non lo so! Ora è buio! Non lo vedo! Non lo vedo più! Non lo vedo più! Che roba bello! Ah! Ah! Ecco anche qua ho ammazzato... Ho ammazzato il maiale qua! C'è la scuogliare per la pelle! Ma non so quanta pelle mi fa prendere comunque! Ma... Mi sta facendo continuare a prendere la pelle! Ah! Minchia! Dobbiamo buttare giù degli alberi e fare un fuoco! Nel caso... Nel caso che il tuo c'ha fame! Così così! Dove cazzo? Ah! Qua c'è un ramo! C'è... C'è un... C'è un pastore! Dai! Qua è più! Che cazzo! E come faccio a buttare giù il rami? Ehm... Col coltello! Col coltello quello improvvisato che c'è! Ah! Noi... Apri... Con L1 puoi aprire l'inventario! Sì! E poi c'hai... Se non sbaglio dovresti avere il coltello improvvisato! Se no te li butto giù io! No! Non ce l'ho! C'ho solo la pietra! Questa cosa sto usando! Ah! Ecco! Allora! Dove sei? Non ti vedo più! Mi viene... Vicino alla zattera! Ah! C'ha il bastone! Ah! Ecco! Ecco! Bastone e pietra e fai... Però aspetta! Fai quello lì! Ah no! Non lo puoi fare te! Perché non hai... Non hai... Dovesti trovare tipo... Sai quelle piantine a terra che ti dice... Coso giovane lì! Devi... Devi spaccare quattro di quelle! Ti puoi fare la... Ma che cazzo? Che cazzo hai fatto? Dobbiamo un colpo! Ma che cazzo? Oddio! Oddio! No no! Io vicino a quello non ci vado eh! Ma che sei scemo! Ti scire mazzato! Ma... Ma è un granchio gigante! Quella! Quello sai quanta cazzo? Ce ne so due! Ce ne so due! Uno qua e uno sta là in fondo! Ma non mi dici che cos'è però! È un granchio! È un granchio! È un granchio gigante infatti! Ma sai che sto qua sarebbe più smetto a correre! Oddio santo! Ah qua c'è un granchio piccolo! Fanno anche male questi stronzi quando ci cammini sopra! Ma immagina manco quello grande quanto fa male! E lo puoi ammazzare? È ammazzato! Qua c'è dello str... Oh straccio! Questi servono! Ehm... Guarda il granchio pezzo di meta qua davanti che mi fissa! È morto! È morto? Eh raccoglilo! Mi piace l'olio il granchio! Ah! Tienilo tienilo che poi al massimo gli faccio... Facciamo il coso! Ehm... Allora... Il problema è... Che non mi fa fare quello dell'acqua immagino! Dov'è? Eh devo andare con manualità a livello 2! Sì! Allora devo fare legatura... Andiamo a prendere della legatura... Se riesco a trovare ancora delle piantine giovani qua... Ah eccole qua! Questi cazzo che qui sta lì mi hanno dato che... Ok raccolto! Level up! I... Quello lì che si beve lì che mi fanno vedere la pubblicità! Level up! Ah vedi 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 un attimo! Vedi questa qua? Palma giovane a terra! Palma giovane qui! Se tu poi la rompi ti puoi fare... Sempre premendo... L1... Cioè R1 praticamente... Raccogliendo quella puoi fare la... Ehm... I... Cos'è che sei... I coso fasce lì... La fasciatura... Ma come cazzo si chiama? La legatura! Quattro di quelle! Con quella lì puoi fare attrezzi un pochettino un po' più... Resistenti diciamo! Vediamo quanto cazzo sono arrivato! Ok io sono 4 e 1 l'ho fatto! Oggetto legatura! C'ho il coltello raffinato! Già ce l'ho! C'è la fiaccola per far fuoco! Ma... Di momento non ci serve! Ehm... Fuoco da campo! C'è il rifugio! Si può fare rifugio! Cos'è qua? C'è la cintura degli attrezzi! Questa servirebbe! Così posso mettere un attrezzo via... Allora... La fabbricazione a livello U! Allora... Come cazzo era così? Aggiungi... Ah... Devo... Devo... Devo posare un attimo... Che è successo? Mi vuoi dire come beve il cocco! Eh si! Eh beato te che stai bevendo! Io da moco... Ah no! Quello che ho trovato! Non... Non avevo trovato ancora qualcosa! Eh... Al massimo... Ne puoi bere due... Al massimo... Ehm... Una volta che troviamo il fatto dell'acqua... Ne puoi mangiare due! Perché sennò poi vieni caccarella e petti tutta l'acqua praticamente! Ah ecco! Quando tu finisci il cocco... Colpiscilo di nuovo... Ehm... Si aprirà in due e c'hai almeno anche un'altra fonte di cibo praticamente! Mi mettete un po' una cosa strana... Vedi? Sì! Ma almeno hai un'altra fonte di cibo! Oh dove va questo cocco? A strozzo! E' da qui che lo inseguivo io! Ok! Mi hanno fatto anche un deposito per... Oh un bastone! Sai c'è... La fame c'è a posto! Sti cazzo! Legna barbere! Posso creare? Si! Posso creare? Eh se vuoi si! Ehm... Amo leggero! Cazzo! Se avevo... Se avevo... Il gancio! Che cosa si fa fa il gancio? Non mi dice un cazzo! Ah no ma sono tutti... Non so che cazzo sti cosi! Ah! Posso creare lo spiedo! Mi serve una roccia e una legatura! Lo spiedo così possiamo cucinare la carne sopra! C'è... Quando fai il falò puoi mettere pure la... Pino piccolo! Cazzo come faccio del pino? Mi dai... I quelli che mi servono? Ah no mi dai bastone! Va cazzo allora! Ah questi qua servono! Uno! Io c'ho una bustola! Eh lo so lo so! Eh ma non so cosa... Mi sa la bustola serve per navigare tra le isole immagino! Quando tipo tu vedi troppa acqua penso che poi... Non so per come cazzo funziona! Non lo so! Ti è piadate! Aspetta la lascio qua! Vandelo qua! Vandelo qua! Vandelo qua! Butta le cose a te! Vandelo qua! Aspetta! L'ho persa! Che cazzo era stato? Eh ho fatto io l'oggetto! Ho preso? Sì sì! Eeeh... Allora... Legna d'adder! Ah quella serve! La legna d'adder! Una volta che fai... Oh! Posso fare l'ascia? È il fuoco! È il fuoco! Martello! Sì! Però devi fare prima il focolare praticamente! Ah aspetta! Tu hai il fuoco da campo? No! Aspetta che lo faccio io! Tre... Ah mi serve quattro! Mi servono tre pietre pure! Poi non voglio buttare giù questi alberi qua perché questi qua ti danno... Il cocco! Voglio buttare giù questi! Il pino piccolo dico qua! Che poi il più piccolo non è perché mi supera in altezza! Serve pure un'accetta perché... O per ogni strumento... C'è la sua cosa... C'è la cosa che si può fare diciamo no? Niente pigiorno è buono così perché almeno così non si soffre di caldo! Poi appena è troviamo un po' di lamiere in giro cose così... Che cazzo? Mo' gli chiede in testa vabbè! Ma adesso... Lo so picchiacco una pietra ma che gli faccio quella pietra? Allora mi serve... Allora il fuoco da campo lo posso già creare e lo metto... Dove lo mettiamo il fuoco da campo? Mettiamo qua vicino alle rocce? Qua, mettiamolo qua! Ok... Ok così almeno c'è il fuoco! Il tuo è legna da adere serve per accendere il fuoco praticamente... E devo trovare... Tre pietre devo trovare! Ah qua c'è quello! Se vuoi si! Così metto un po' di cibo su a fare che... Ho preso del cibo! Devo trovare ste cazzi di pietre! Prima c'erano un po' di pietre... Ma ne trovo più! Non c'è abbastanza spazio in niente! Beh quando si sta per spegnere dimmelo e ci butto l'altra... Ah c'è la durata qua! Il cerchio del mio! Sì sì! Ma non c'è il coso bianco! Allora... Fa un po' moglie di sete! E la bus la devo buttare per forza però! Ah c'è una cosa che... Ok buono! Mi sono un po' di fornito! Ho liberato dello spazio! Ma dove cazzo sta la? Ah sta là la nave! Sì! È dall'altra parte! C'è un po' più in là praticamente! Fa bene là! E dopo! Casomai se fa giorno eh ci vado io! Appena riesco a trovare un modo per... Perché il mio sta morendo di sete praticamente! Però non posso bere altro cocco diciamo! Perché ho già mangiato... Due di cocco! E mi servono altre due pietre! Mi servono! Parco di me si vede un cazzo qua! E ora becco qualcosa! Ho lasciato la torcia di là o ho lasciato? Che è qua? Eh... Sette pietre! 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 E... Eccola! Un'altra ho trovata! Tavolame! Eh! Il tavolame... Dobbiamo raccogliere e mettere tutto da qualche parte perché... Ok il fuoco lo vedo! Ora ci vado lì vicino! E ci faccio... Ci faccio il coso così! Se hai fame! Poi ci putto anche il coso del cibo su! Allora focolare! Fatto! Ok! Così almeno non... Non va da altre parti! Lo spiedo! Lo spiedo! Io lo metto qua! Ecco così possiamo attaccarci su... Magari che cazzo ne so! Ehm... Aspetta! Ah è vero che io lo posso fare anche così! Attacca! Vedi? Posso farne due! Ehm... Penso che ce lo dica dopo! Ah! Ah! Un faggionno! Ma tu lo sapete che poi ti devi fare così? Che cazzo! Si! Oh! Oh! Ah! Ma! Oh, sto caduto di sotto, ma che cazzo? Ah beh, il fuoco, adesso lascia perdere, adesso lo spingiamo, almeno ti fanno una nuova cosa Sì, è un po' Ma mi sa che se lo spingiosti, so che buffo Eccolo che ho visto il cocco tostato Allora, mi ha detto quello sotto al cuore che era? La fame Ah, la fame Morire c'era il fuoco Vediamo se l'ha fatto qua Boh, me fa vedere un cazzo Cucina, ecco, ecco, mi sa che a cuore che ha fatto il pezzo grande sopra O qualcuno di questi si è fatto, non lo so Precogli Provate un attimino se si è fatto, boh Eh, io ho perso la nonci di cocco, l'ho messo qui Pezzo di carne in bagno L'hai mangiato? No, non era cotto No, non era fatto Da quando si è reso conto? Ah, ecco da qua, non c'eri di cocco Stavo qua, cerca come un cretino E non la trovavo Eh, bevi, va Quanto c'ho? Eh, c'ho quasi C'ho mezza racca di cosa Bevi Devi prendere la roba Eh, devi prendere C'è cosa Guarda come salta poi E' quello il casino Cioè, dobbiamo fare C'è un botto di palme qua Se riusciamo a fare quello là Dove tu poi Eh, a livello 2 se fa Ma attacci sua A livello 2 se fa quel coso lì Posso farmi attrezzo questo qua? Allora, il bastone ce l'ho già Mi serve uno di ascia E due pietre Per far Che cazzo è dall'altro? Ma Camerai Come fai a distratto scusa col cocco? Cioè, tenete Oh, c'è la pioggia Sta piovendo Ah, qua c'è una pie... No, è un cocco Porca Dio Certo, certo Devo trovare... Oh, la pietra Eccola Oh, Dio santo Quanto è grosso Sto cazzo di... Sto cazzo di coso Madonna Madonna Ho visto... Ho visto il serpente Ho visto Eccola Cazzo è grosso Allora, me ne serve un 2 mi sa Si, non fai un cazzo Un culo là Ok E' ok Mi ho fatti due di questi Un attimo Si, ne ho due Che cazzo è quello? Niente È un albero che ha caduto Ehm... Mi serve ora Per fare L'accetta Per fare l'accetta Mi serve un... Uno di quelli Ecco, questi qua Mi servono Quindi me ne servono Guardi Uno Due Eh, questa è stata Orco, Dio Ma che sei scemo Ha trovato un colpo Ma muovi di chiaro E' morto Ma che cazzo è Palma giovane Perché si era vecchia Che faceva Moriva Ah, legatura Mi serve Ah, cazzo Devo mettere la guante in parte Perché non la posso raccogliere Ok, allora, d'accordo Adesso mi ha fatto raccogliere Perché prima si E poi è un mono Serpente Eh, ho visto Si, si, si Dai, dove cazzo? Annulla Vediamo che cazzo Posso togliermi di dosso Ehm... Questa un attimino Da me, da me Di torno dove c'è il fuoco, va Io, perché ti poso Posso un po' di roba Che qua C'è un sazzo Trovo un sazzo Eh, vai Porta qua tutto Dove c'è l'accampamento Qui, così Meno Ma poso anch'io Un po' di roba Tipo roba che non serve Per il momento Non serve Tipo qua adesso L'appendicia Qua Che ne avevo quattro C'è un pesce Abbiamo Mi sa che la carne Qua Penso di carne grande Ma che faccio a capire Se è fatto o no Ma il pesce A che serve Me lo metto in da bolla No, lo fa cucinare Eh, perché lo muovo a cucinare È perché c'è stata la carne Ehm... Ecco Un'ascia Ah, un'ascia grezza L'ho fatta Così se ti serve Per tirare giù Qualche albero Già possiamo farlo Praticamente Uh, la lancia c'è Per ammazzare Tipo i pesci O cazzatine varie La canna da pesca C'è il galleggiante Da isca Però lì mi serve Il galleggiante La fioccina Non so cosa serve La fioccina Però Ehm... Oh, ho sbloccato Un po' di roba Oh, eccolo Allora Mi serve La palma Una di... Un panno Un panno E tre sassi Ehm... Il problema è Come cazzo fa A palma No La fiasca Qua mi serve La noce di cocco E... Per fare la fiasca Di noce di cocco Così facciamo l'acqua Possiamo far Praticamente Dopo E... Il problema è Come cazzo Faccio A fa i cosi Allora Diamo una cosa Sembra strana Che sta cazzo Di isola Non ci sono i Non c'è tipo Qualcosa per bere Qualcosa così Palma giovane C'è la tempesta Di merda Cioè Dov'è che hai la barca? Ah, è là in fondo Beh, posso provare Dopo ad andarci a nuoto Casomani O andarci con la barca Lì Possiamo fare pure Azzate La possiamo fare pure Fattatura Ok, ne ho fatta una Mi serviva Allora Allora Voglio far prima questo Se si riesce Dove cazzo è? Non per la caccia Qua Mi serve una palma Però da buttar giù Mi servono tre sassi Mi servono per fare Il distillatore dell'acqua E' sassi Mi stavo messi ad arco Ma vabbè Perché? Uno ho messo vicino al fuoco Le sassi Ok Eccolo qua Vediamo se ce ne ho Magari Ce ne ho già due Me ne serve un altro Perché qua c'è quello lì Qua c'è quello lì Qua c'è il deposito di pietre Ma senza l'accetta Cioè senza il piccone Non posso fare un cazzo Ah ecco Mi sa che ne ho trovato un altro Sì E un altro l'ho preso Vediamo un po' cosa mi serve adesso Lo straccio ce ne abbiamo uno lì La palma E la fiaschetta per la palma Allora Mi serve una palma Butto giù una palma Anzi no Vediamo se riesco a buttarli giù Allora Mi serve E' quello fa così perché Metto mezz'ora per buttar giù Sennò dopo Eh mi chiama l'accetta Qua Non c'è mancarsi Eh Mazzo di palme Mazzi di cazzo No mazzi di palme Ah posso anche raccoglierlo Vediamo un po' Mi ha fatto raccogliere Come ce l'ho No devo buttarlo giù Non devo Non devo raccogliere in questo senso qua Ok Una foglia di palma ce l'ho Vediamolo il più possibile Ok Ora mi serve Eh Vabbè il telo ce l'abbiamo già Eh Quello per distillare Che è Eh Dove cazzo è no Ah di qua Mi serve Mi serve una noce di cocco Noce di cocco Integra Vediamo un po' Eccola qua Accolgo Ok questo lo posso già fare Posiziono un attimo qua Premi per raccogliere Buono Ok Ora mi serve De nuovo Senti C'è sonno Mi serve Un'altra cosa per Un'altra coda E lo straccio Lo straccio Se non sbaglio ce l'ho Ah c'è un così Dove che sono sti cosi giovani qua Eccoli qua C'è un piccolo maiale C'è un maialino piccolo C'è un piccolo C'è un piccolo lui E qua Strozzo Allora Vediamo un po' Eccolo qua L'altro Minchia Raccolto Ha aumentato Mi sono spaventato Che c'è sta pianta Eh salve Ok Eps fibre E questa Ok Ora faccio Una rilegatura Ah bello lo so Di giù Se no Si lamenta Eeeh Di cazzo ce ne sono Questi cosi piccoli Ah ma lei li porta in giro Ma è bastante la carne Ah ecco Pezzo di carne grande cucinato Te lo dice subito dopo Te lo dice Allora Ah lo straccio è l'atterrata Qualche parte qua Ah non posso raccoglierlo Perché sono pieno di roba Allora che posso buttar giù Buttiamo giù il pesce Ah ho buttato giù quello Dacci sua Dov'è l'arcia Ho perso l'arcia Accetta Eccola qua Lascia grezza Allora mi serve uno straccio Ok Il coso dell'acqua è qua Ho fatto Ci vanno sotto le Le palme qui Come faccio Come faccio mettere Mette le palme Pian piano si fa l'acqua Ecco qua Mi è premuto per aggiungere la fibra Ok Pian piano si fa l'acqua Servono le Servono I cosi delle palme Comunque Qua c'è Il coso grande Qui Dov'è il pesce Che fai Cosa Per le palme Scusa Eh ci fai Ci fa l'acqua Non ho capito Com'è che funziona Che palme Eh si però Che palme Sto pesce Eh non me lo fa Non me lo fa Mette del pesciolino Da quando piove No no Anche adesso Vedi che pian piano Si fa l'acqua O anche quando piove Poi è Meglio così Guarda la barca dov'è Quanto è in fondo Eh ma mi devo Devo bere Perché porco dio Mi servono due noci di cocco Per bere Pietro 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 E poi puoi andare lì No diciamo Io voglio andare lì Per vedere un po' Magari se c'è qualcosa Insomma C'è la palma qua Tanto tu non ci vuoi venire Non c'è paura Eh No vengo venito Ah vieni per te tu Sì Eh devi bere anche tu Allora vedi un po' come sei messo A energia Tipo quello che si beve Quello che si mangia C'è due tacchi Ha due tacchi C'è i tacchi lui Ok Come sono messo Ia c'è un cazzo praticamente Ok Il problema è Ah no vabbè Possiamo vedere anche dove siamo noi Allora Butto giù la bussola Che non mi serve Per il momento Ma ho bevuto Ma ho bevuto All'esistenza All'ora Allora Porto giù questo Ok Porto giù soltanto due cose di noci di cocco E la carne E la carne Grossa Distillatore d'acqua Ah ma pian piano Si sta a finire Ti ho appena bevuto io Eh Ti ho appena bevuto io Ma come ci hai bevuto tu E' mortato Ma ti sei riempito tutto Lo trovavo No no C'avevo due barre Però mi ha riempito e due e mezzo Allora Dov'è l'azzate da mo' Eh Da altra parte Tanto poi comunque Possiamo mettere della roba dentro Il coso lì Eh mica Che cazziccio devo fare però Il foggio della madonna No Guarda il maialino davanti Che si è incassato in mezzo alla sabbia Come va a trascinarlo Eh Devo tenere imprimuto alle due E ti fa trascinare la Orcodio Dove Devo buttarla almeno dall'altra parte Così almeno vedo Oh ma fa trascina più Ah Trascina io Vai trascinamolo in due Eh E' rimasto fermo Ah perché Da sbattere Di là Io stavo a camminare e pensavo che c'è stava ancora Ma chi la cosa? Io tranquillamente camminavo Comunque mi sta per prendere l'isolazione Eh lo so che devo fare Oh Ma l'ho ribaltata mi sa Ah no penso che è giusta Giusto è giusto Ah la porto un po' più in là Tu sei sopra? No No Non è buttata da nessuna Guardatelo qua E poi vestito così sembri il Dwight Sembri vestito così A pagaglia prendila Eh Aziona Ci stai? No non sale Aspetta Parti Aspetta Ah Parti Ecco che Ah Ecco che Guardate che cazzo di nave lì Penso che lì ci copriamo dal sole immagino Ma in teoria per me ci staranno pure gli squali Oh cazzo Oh cazzo Dove? Sto sotto Continua 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 Che sono io Per almeno era lungo quanto uno squalo Cioè c'aveva la pinna E non so se era come quella di prima Che dicevi tu No quello lì è corto ed è grosso Praticamente È come Mirko Attacci sua La squalo Dimmi se vedi dei tentacoli che escono improvviso dal mare però Cioè vedi dei tentacoli che escono dal mare? Eh perché c'è So che dentro qua ci sono anche i mostri marini quelli leggendari Cioè il trofeo che devi ammazzarli tutti e fare i trofei là Cioè a prendere i trofei in casa Eh beh va a finire il mostro leggendario Parco Dio quanto cazzo ce l'ho Pietro 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 E devo passare la mia temperatura lo so Ma basta che si può entrare? Cioè è che andiamo a mollare per nulla Penso di sì Devo andare fuori Deve abbassare la mia temperatura la tua Penso di sì che si deve Che si può entrare Ma se no perché mettere un Che è grandissima sta cosa La 07 Si vuol dire che ce ne stanno altri pure Ecco pure io Devo abbassare la mia temperatura Ma esce fuori un megalodonte Che cazzo avrà la bocca Di tutta la cosa che andiamo dentro Ma sai l'ho detto E fai un urlo di quelli Che se esce qualcosa da sotto E ci prende Pure Mi dice devo trovare dell'acqua Ho bevuto fino a ma Oh che cazzo è qua davanti Ma è una balena? No Eh rialzo dal mare Ah ma dobbiamo un colpo Ma io posso fare anche così Aspetta un attimo C'è abbastanza No ma se è abbastanza grande Gli posso mettere Posso buttare giù l'ancora Ah l'ancora Sì sì No l'acqua è troppo bassa Infatti te sei sceso Devo trovare dell'acqua Devi trovare l'acqua Eh lo sai Ho capito Ma come faccio l'acqua C'è un botto di mare Non ho capito Perché non bevi quella Ah se vieni qua sotto Te ripari dal sole Ma guarda il telefono Eh sì Sto assagliato Quanto che mi ha dato la Eh la carne mi ha dato Quattro spicchi in pieno Quando hai mangiato la tua Ha fatto Ok Allora Ah qua c'è la scaletta Tipo questa lì dentro Ah ok io sto dentro Ah beh intanto Stato qua che si sta riprendendo Un attimo Da Dalla cosa Monitore Sì Più salgo più è scuro Più è scuro Minchia se becco qualcosa Che è entrato qua dentro Sì Vabbè Qua cos'è Mi sa Mi sa Interagire Interagire Invece no Ma è venuta notte Porco cazzo Vedo più nulla Non vedo Ma cioè Ah abbiamo trovato L'autoplano Sì E io come cazzo Faccio a capire Che cazzo Devo fare qua C'è del cibo Cibo Ah no Fai scottare il cibo È un'autoplano Questo Ma è venuta qua Per trovare il scotto E ho trovato l'autoplano Ma il cazzo Mi frega L'autoplano Mi butto sotto E Faccio un volo Mi butto di sotto Sì ma È già notte Ma com'è Cato si parla dal sole Che porco dio Siamo 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 È notte Ma com'è Qua invece che c'è Sì Potevate mettere qualcosa Tipo cazzo Uno di qua Arriva sto coso enorme Deve fare mo Attacca il cazzo C'è l'autoplano Cazzo mi fa C'è l'autoplano Questo può essere Il modo In cui Da fuggire Da pacifica Di per motore L'elica La cabina dell'aereo Fai scorta di cibo Fai scorta d'acqua E fai scorta di carburante Sì ma E' stato bello Giocare con qualcuno Magari Saper giocare un pochettino Non si vede più Un cazzo Non si vede Eh Sembra di coppia Un cazzo Praticamente Mezza schermata Di occupata Sta cosa Niente Non ti coppia un cazzo Allora Nulla Proprio zero Ma c'è l'autoplano Pensate che fosse qualcosa Mangia Qualche vivero Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Io non ho più scelto Viva dalla cieca Cazzo Almeno lì c'era qualcosa da fare Vedevo dell'acqua Che si sollevava Cosa così Non pensavo Mi avevo fatto male E' stato Mica a posto Sa un mese Pidro 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 Dove cazzo è Ah ho sbagliato Lato del È il problema Ma dove cazzo Eravamo noi Ah è andato